Il primo maggio che anticipa l'attenzione che avremo a livello nazionale verso la città di Pordenone. Questa volta siamo stati scelti come manifestazione per il lavoro dalle tre confederazioni sindacali proprio a testimonianza di quanto le vertenze intorno al lavoro, la mancanza di lavoro di questo territorio si è diventato simbolico. Noi eravamo quelli della disoccupazione zero e siamo al centro di una discussione importantissima per tutti per capire alla fine come sarà il lavoro non solo qui ma in generale in Italia. Invito tutti ad esserci domani perché la presenza della città intorno ai rappresentanti delle confederazioni sindacali darà una prova di quanto noi come città siamo presenti in questa discussione, come siamo attenti a vedere come finirà. L'Electrolux è diventato un simbolo, è stato per Pordenone un simbolo, deve essere anche in futuro ma con condizioni di dignità e di presenza dei nostri cittadini in Electrolux non in fase, non di serie B vogliamo comunque rimanere in serie A perché ce lo meritiamo, abbiamo le competenze e l'esperienza sappiamo fare dei prodotti formidabili quindi così deve essere anche in futuro. Tutti in piazza domani per portare avanti questo messaggio e dire chiaramente che la città di Pordenone certo non vuole spegnersi.